Vittorio Sgarbi contro tutti. Se all'indomani dell'esclusione da parte della commissione esaminatrice dalla lista dei possibili direttori del Pecci, il noto critico d'arte aveva fatto un blitz in elicottero a Prato per chiedere di essere riammesso dal consiglio direttivo minacciando un ricorso al Tar, ieri ha invece inviato una lettera al sindaco nella quale spiega di non essere più interessato alla guida del centro per l'arte contemporanea né a nessun altro incarico in città. Tutto ciò nonostante il primo cittadino avesse ribadito che ogni decisione sarebbe stata presa nel CDA di mercoledì prossimo e che Sgarbi era ancora in corsa. Nella lettera indirizzata al sindaco pubblicata dal Corriere Fiorentino Sgarbi spiega che proseguirà la sua battaglia legale perché si è risarcito il suo onore e ristabilita la verità sulla corrispondenza dei suoi titoli alle richieste del bando di concorso ma poi si spinge oltre. In questi giorni turbolenti, scrive Sgarbi al sindaco Cenni, ho maturato la convinzione che non io a lui ma il museo Pecci con i suoi condizionamenti e nella sua assenza di libertà è inadeguato a me e alla mia natura. Non c'è riscatto dove non c'è libertà politica e culturale, conclude Sgarbi. Sulla vicenda interviene anche il segretario del PD Gabriele Bosi che invita il centrodestra pratese a superare le proprie divisioni interne candidando Sgarbi a sindaco. Bosi attacca anche Roberto Cenni che ricopre anche l'incarico di presidente del Pecci. Il quale da una parte ha ballato il processo inaugurato dalla regione con la formazione della commissione che deve aggiudicare i candidati per la direzione del Pecci, dall'altra ha promosso sulla stampa un nome famoso il quale però non ha fatto altro che offendere sia il museo sia i componenti della commissione che deve aggiudicarlo. Allora io penso che il Pecci non abbia bisogno né di spot elettorali né di insulti né di promesse vane, ha bisogno di un progetto di rilancio a livello regionale e nazionale, ha bisogno di risorse, di integrazione con la città e soprattutto di una commissione che possa lavorare in modo libero e aperto.